Allora ragazzi, li prendo da qui perché in effetti il tempo a disposizione per la registrazione di un quarto d'ora era terminato, quindi completo adesso con questo secondo video. Allora, eravamo arrivati all'analisi della scena, quindi al momento in cui in effetti attraverso l'utilizzazione di una serie di parole che appartengono al campo lessicale della vendetta, il padre di Don Rodrigo, quindi Don Diego, cerca di far salire, ecco, far, in francese on dice, monter la colere e le besoin di vengeance dans son fils. Allora, noi abbiamo visto che ci sono molti di mots, molti di verbi, anche di elementi che appartengono al campo lessicale della vendetta. E abbiamo trovato la ripetizione del verbo venger e vengenze, ma ancora, tu as-tu du cœur au début della scena dove il vuole s'assurare del courage di son fils, e ancora il momento in cui il parlare di un affronte e di un affronte per mettere in valore lo che ha subito e il ne s'agit che di un sifflet, di un gifle, quindi non è una affronte si grave. Ma in questi mots ciò che diventa veramente veramente redoutabile, veramente cruel e una action, e tutto questo è rappresentato come una action, come un gesto al cui non può non répondre che per le armi. e ciò che dice, c'è nel sang, ce n'è che nel sang che l'on l'avente l'outrage on parla di l'outrage, ma il s'agit di un soufflet, non più allora, l'honneur, l'coup mortel, l'venger, l'outrage, l'outrage ce sono dei mots che sono ripetati allo lungo della scena e che, o ancora nella parte, l'affronte, la vengeance venge-moi, venge-toi e venge-nous, venge, c'è il dernier mot di questa scena la prima, c'è una question qu'il pose a son fils e cela, c'è un po' un artifice c'è un artifice che l'autare, che l'écrivain, che Corneille utilizza per attirer l'attention, sia dei personaggi su scena, ma anche dei spectatori ancora, il y a questa parte qui commence, questa strophe dans laquelle Don Diègue vuole décrire, vuole présenter qui è l'offenseur. Jusque là, il l'a parlato, il l'a nommato, in appelato son offenseur insolent, arrogant, ce sono dei mots che servono per far montare, per caratterizzare son offenseur come un ennemi. E in questa parte, il vuole dare della valore, il vuole reconnaître la valore di son offenseur, tutto questo per rinforzare il bisogno della valore di son offense, perché il parla di un uomo da temere, un bravo soldato, un soldato coraggioso, un gran capitano. Ce sono dei mots, dei appellativi che s'opposano insolent, arrogant e offenseur. E alla fine, il parlera d'un offenseur. E tutto questo per donare della valore all'adversario, all'ennemi per trasformare l'offenseur in un ennemi. Questa parte comincia con questi due verbi, il s'agit sempre di impérativi, c'è lì l'attitudine autoritaria. E il padre, in questo caso, è il roi, è il chef della famiglia. E il faut portare il respecte a suo padre, quindi il don Rodrigo non può solo venger a suo padre. A un momento in cui son padre lui permette di lo venger, il non può non se rifusere, anche se vediamo questo motore, l'amore. C'è il motore che s'éloigne un po' di la situazione di violenza e di guerra, di opposizione che l'on ha utilizzato jusque là. E c'è il mot qu'il associa al nome di chimene. Quindi, mère o tu, c'è un impératif, e questo sonne come un ordre. Mori o uccidi, quindi non può ne chiedere. Il faut risolvere questo affront a travers la vengeance, per sauver l'honneur della famiglia. In questa parte, l'on ha la ripetizione dell'etalement. Il c'è un vero che se complica su 4 veri. Voi vedere come il è, anche in la disposizione sulla page, c'è di grasse HV, le perdere chimene, le, non replicapoint, vous voyez, les mots sono disposati in compliettando le vero. Chimene capitene, la rima è compliettata a travers l'etalement, il verso spalmato, su 4 veri. C'è il momento in cui c'è una sorta di evoluzione psicologica dei personaggi. In questo momento, noi vediamo che Roderick se rende molto nervi. Il è in colere perché vuole venger il suo padre che ha subito questa offenza. E il sait che il deve combattere contro un bravo soldato, un uomo capabile. Ma il ne connaisse ancora il suo identità. E quando il sait, il suo padre lui dice che il suo padre di chimene, il resta senza mots. E c'è il momento, son attitude se transforma, d'énerver, il devient étono. Il ne sait pas comment, comment répondre. Et son père lui dit de ne pas, ne réplique point, non rispondere nulla, non réplicare. Parce qu'il sait, je connais ton amour. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Quel est l'importance de ce passage? Il dit «Je connais que tu aimes, je sais que tu aimes chimene, mais l'honneur de la famille est plus important. » Il dit «Mais qui peut vivre en femme est indigno du jour. Colui qui peut vivre en femme, cioè senza sentire le désiderio, il bisogno di vendicare il proprio onore, non è degno di vivere, è indigno du jour. » Ce passage est renforcé par l'utilisation d'une maxime, d'une phrase qui fait devenir la situation particulière de l'offense du père de chimene à Don Diède, une sorte de généralisation qui a de la valeur pour tout le monde, pour toute l'humanité. En effet, il dit « Plus l'offenseur est cher et plus grande est l'offense, à travers l'utilisation de plus, plus ces deux mots, on va renforcer le besoin de vengeance. » Et l'offenseur, ce n'est plus seulement l'offenseur de Don Diède, ce n'est pas seulement le personnage particulier de Don Gomes, mais c'est évidemment l'offenseur de l'honneur en général. Ici, nous avons l'affirmation de l'importance de l'honneur de la famille à à travers l'utilisation des adjectifs possessifs. Déjà au début, nous avons vu, il a utilisé « mon fils », « mon sang » et « le sang » qui est considéré comme la famille, parce que « le sang », ça veut dire une sorte de dynastie, une sorte de dynastie et représente aussi le sang. Ils utilisent le même mot pour dire, c'est le sang, à travers le sang, qu'il faut laver, qu'il faut ressoudre cette situation. Et le thème de la famille est répété à la fin, où il se montre victime de cette situation, il renforce son attitude comme d'une victime. Il dit « montre digne fils d'un père tel que moi, accablé des malheurs où le destin range ». C'est là, c'est ce moment-là qu'il se montre comme une victime qui a été offensée, mais qui ne peut pas se venger tout seul. Et donc, il lui faut l'aide de son fils. Je vais le déplorer. Quelle est la dernière partie ? C'est à travers l'utilisation de ce demi-verg où il utilise quatre verbes monosyllabes à l'impératif et cela est renforcé par l'allitération en V. Va, vole, venge. Il y a ces verbes qui sont très rapides, qui vont accélérer la situation et qui montrent une situation d'urgence. Et les adjectifs possessifs qui avaient été utilisés jusque-là et les pronoms aussi « mon », « moi », « toi », deviennent « nous ». Donc, à travers l'utilisation de ce pronom « nous », le destin, l'offense qui a été fait au père, se devient une urgence du fils. Donc, les deux appartiennent à la même famille. Alors, c'est le cas, c'est le devoir de Don Rodrigue de venger son père et l'honneur de sa famille. Alors, c'est le cas, c'est le plus important qui a été fait au Par лучше de ses posting. marketing et sur l'agrare l'inscrire, il donne beaucoup des affaires qui sont éprisables. Et donc, on off me juste à connaître ici,